amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati grazie grazie siamo ormai a un passo da 30 mila euro della nostra campagna di sottoscrizione dei preabbonamenti per sostenere il nuovo progetto della nostra testata giornalistica ma questo è solo il primo obiettivo del nostro progetto editoriale il prossimo traguardo è quello che ci darà la possibilità di aprire una sede per realizzare interviste in presenza con tutti i vantaggi concreti e che ne derivano e questo prossimo traguardo sono i 40 mila euro di preabbonamenti e solo se sarete in tanti solo se tanti altri ancora di voi sottoscriveranno il preabbonamento potremmo fare questo passo potremmo darci una struttura più professionale avere nuovi collaboratori per realizzare i progetti che abbiamo in mente per voi e per tutti quelli di voi che non hanno ancora sottoscritto il preabbonamento trovate qui sotto nel testo in descrizione il link per accedere alla pagina dove potrete consultare il nostro progetto editoriale nei dettagli cosa potremmo realizzare in base a quanti di voi sottoscriveranno il preabbonamento e nella pagina potrete scegliere la forma di preabbonamento che preferite avete tempo per aderire a questa campagna fino al 30 marzo grazie grazie di cuore da parte mia e di gabriele san nino il nostro direttore responsabile a tutti coloro che hanno finora già sottoscritto il loro preabbonamento a tutti quelli di voi che lo sottoscriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni grazie ancora siamo a lunedì inizia la settimana con il nostro consueto appuntamento con la politica internazionale quindi io do un grande benvenuto a giacomo gabellini ciao giacomo ciao carlo buongiorno a tutti ricorda una lista economica e geopolitica ogni tanto ricordare del giusto il il tuo canale youtube il contesto ho visto ho visto giacomo ho visto visualizzazioni in costante crescita e quindi mi fa solo che un immenso piacere si speriamo che continui così la tendenza è quella quindi non vedo come potrebbe cambiare come lo è lo stesso per il canale di stefano orsi ciao stefano ciao carlo ciao giacomo buongiorno a tutti però spero mi inviterai un giorno nel tuo canale sì sicuramente dai riusciremo a combinare faremo faremo no dico dico perché magari acquisisco un po di anche il vaso di pandora acquisisce un po più di visibilità visto che ormai hai una platea veramente veramente sempre in costante crescita ricordo negli incontri pubbliche pubblici mi dicono sempre ti seguo sempre sul vaso di pandora bello ma anche ti diranno anche nel tuo canale ma sì 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 ecco perché detta così sembra che ti seguono solo tramite ma molti sicuramente solo comunque va bene va bene lo stesso non c'è problema così ricordo la lista in sud est analista per il blog sacer italia collaboratore del blog lettera da mosca allora io direi che la notizia da cui partire oggi del nostro nutritissimo programma è le dichiarazioni della papa che rompe sul conflitto in ucraina con parole che spuotono direi il tavolo internazionale ha detto ha dichiarato chi eva abbia il coraggio della bandiera bianca negoziare non è la resa è più forte chi pensa al popolo chi ha il coraggio della bandiera bianca poi tra l'altro ha aggiunto anche quando vedi che sei sconfitto che le cose non vanno occorre avere il coraggio di negoziare hai vergogna ma con quante morti finirà sono parole giacomo pesanti no e rischiano anche un po di scuotere l'occidente scono scombinare un po i piani a chi si rivolge che si sta rivolgendo solo a zelensky secondo te il papa ma ovviamente non solo lui è chiaro che da ricordiamo che il papa prima di tutto un politico mi sono sempre stato di quella di quell'opinione magari non nasce come tale ma nel momento in cui scende a quella carica diventa automaticamente un politico e quella carica non ci arrivi senza una visione che può essere condivisibile o meno indubbiamente ma credo che il vaticano questa non è una cosa nuova abbia una conoscenza sul campo proprio in virtù della diciamo distribuzione geografica di tutti i vari insomma i vari sacerdoti eccetera quindi ha notizie sul campo in tempo reale da più parti contemporaneamente e credo che abbia contezza diciamo da non sottovalutare un livello diciamo di contezza del dell'andamento delle cose sul campo di battaglia piuttosto affidabile dati circa le possibili perdite insomma gli andazzi che si registrano in battaglia e quindi credo che abbia tratto una conclusione che a cui noi per la verità eravamo giunti da molto tempo cioè il fatto che questa è una guerra d'attrito una guerra che la russia precipisce come esistenziale e non molerà l'osso finché non riterrà soddisfatti tutti i suoi obiettivi e in un contesto di questo genere l'ucraina è destinata prima o poi a soccombere resta da vedere quanto sia in grado di store quanto sia alto il tributo di sangue da estorcere al paese con una base demografica in netta diminuzione in netta riduzione e un sottigliamento delle diciamo delle scorte di materiale militare si parla di munizioni ma si dovrebbe parlare secondo me anche proprio di soprattutto una guerra d'attrito una guerra che si caratterizza per l'uso intenso dell'artiglieria quindi in una guerra d'artiglieria sono anche le bocche da fuoco che subiscono un logoramento man mano che vengono impiegate e l'occidente ha manifestato un numero piuttosto elevato di criticità nella catena produttiva magari ne parleremo più avanti però il punto qual è? il punto è che l'ucraina sta lentamente lentamente ultimamente non tanto lentamente diciamo esaurendo tutte le proprie capacità le proprie risorse l'appello del papa rivolto anzitutto a coloro che manovrano l'ucraina utilizzano l'ucraina come carne da cannone per diciamo lo strumentalizzano in nome dei propri obiettivi geopolitici ed economici che non sono esattamente zelensky eccetera o non solo zelensky e la sua cricca ma sono i paesi occidentali che hanno stabilito che occorre portare avanti la guerra oltranza quantomeno finché non si tengano le elezioni negli stati uniti ma potrebbe essere secondo me un orizzonte troppo lontano sì stefano delle parole del papa ecco c'è una grandissima strumentali sulle parole del papa c'è una grandissima strumentalizzazione quelli che lo criticano a pie pari quelli che lo tirano dalla loro parte storpiando nelle parole coloro che dicono che in realtà non ho detto quello che intendeva dire però restano le parole effettive che ha pronunciato le parole effettive che ha pronunciato soprattutto nella prima frase alla domanda come le rispondono i potenti della terra quando chiede loro la pace no lui è che la domanda successiva lui parla appunto del fatto e qui fa riferimento chiaro all'occidente dice che è vero ma dobbiamo difenderci no e lui aggiunge che ti accorgi poi che questi che lo dicono hanno le fabbriche degli aerei per bombardare quindi dice specifica che non è questione di difendersi ma di distruggere e cioè che chi parla di difendere l'Ucraina in realtà parla di distruzione per i russi e usa gli ucraini come strumento per ottenere questa distruzione quindi non è nei loro interessi la difesa dell'Ucraina ma solamente ed esclusivamente la vendita l'acquisto delle armi e lui il loro uso per distruggere i russi quindi è una questione di affari di soldi e allora si capisce meglio perché nella prima parte lui dice e usa le parole che poi tutti hanno criticato dicendo che aspetta un attimo voglio prendere le parole esatte proprio che dice il pontefice ecco è più forte chi vede la situazione questa parola per me è molto importante perché chiarisce che dal suo punto di vista l'elite occidentale non ha chiara la situazione e poi aggiunge chi pensa al popolo e cioè antepone il bene della popolazione agli interessi di parte agli interessi economici agli ordini di chi gli impone di continuare una guerra persa ecco e cioè allora in quel senso si capisce bene il coraggio della bandiera bianca anche contro le imposizioni di chi vuole continuare la guerra questo è il pensiero quindi che si capisce bene calibrando bene ogni parola che ha detto perché il papa non parla non usa le parole a caso e oggi si può negoziare dice con l'aiuto delle potenze internazionali la parola negoziare una parola coraggiosa quando vedi che sei sconfitto quindi ancora un riferimento alla situazione reale sul campo e cioè l'ucraina è sconfitta e lo è a detta di tutti soprattutto a detta degli occidentali ricordiamo le parole di macron che in questa settimana ancora ha avuto un incontro con tutti gli ex presidenti francesi ha avuto un incontro con tutte le forze politiche presenti nel parlamento francese e con loro è stato esplicito ha parlato chiaramente di un prossimo possibile tracco probabile tracollo ucraino un tracollo che porterà addirittura a al rischio alla necessità a ipotizzare un intervento delle potenze europee ecco e questa questa situazione il papa la vuole evitare perché sa e capisce molto bene a che cosa porterebbe quindi con grande saggezza dice che negoziare è una parola coraggiosa proprio per le situazioni in cui fa ma dice che è evidente che solamente chi ha chiara la situazione capisce realmente la verità dei fatti può arrivare a capire quello e non invece chi usando parole vuote come diritto di difesa ecco in realtà nasconde il proprio desiderio di distruggere l'altro usando uno strumento e il mare facendo il male del popolo ucraino certo senti giacomo allora ormai anche il papa certificato una situazione no l'ucraina ha perso in pratica ecco ma adesso forse si entra nella fase forse più pericolosa perché nella narrazione diciamo la propaganda anche in questo caso dell'occidente gli si rivolta contro perché la chiama a una assunzione diciamo di una presa di posizione no cioè perde l'ucraina ma di fatto perde l'occidente così concludendosi ecco l'occidente alla faccia del mondo e delle sue popolazioni può l'occidente i governi occidentali diciamolo chiaramente perché io stesso incorro in un errore parlo dei paesi qui stiamo parlando invece dei governi dei politici i politici eh occidentali eh possono permettersi questa sconfitta io carlo allargherai il discorso non parlerei soltanto dei politici parlerei di classe dirigente in questo novelo rientrano i giornalisti rientrano i professori universitari rientra tutta una una vasta gamma di di figure che hanno contribuito al disastro odierno eh parlando con un amico giorni fa mi diceva che questo è il momento dei dilettanti perché gli i cosiddetti professionisti hanno inanellato una serie di eh diciamo hanno preso una serie di granchi da far spavento uno più grosso dell'altro che inizialmente uno poteva ritenere che in realtà fossero eh diciamo ci fosse la grande strategia perché questi non possono essere così miserabili da commettere errori così grossolani invece più passa il tempo più emergono dettagli e più si evince che sono veramente la canna del gas cioè non sanno nemmeno come uscire dai loro stessi errori di valutazione e lo vediamo proprio proprio oggi e io un'altra volta ne abbiamo parlato secondo me il discorso è molto molto importante dal 2000 in realtà prima prima che dal 2022 cioè prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino ehm i leader europei in particolar modo si erano eh diciamo ancorati si erano avevano ipotecato il futuro dei loro paesi a una visione a uno scenario di guerra di conflitto permanente con la Russia e hanno inteso e questo anche qui sta emergendo da tutta una serie di risultanze che avevano veramente ritenuto possibile infliggere una sconfitta strategica alla Russia valendosi dell'Ucraina questo è questo è un dato e adesso che che la realtà si manifesta in tutta la sua crudezza e non non va soddisfacendo i loro i loro desideri e fanno un po' come fa Israele continuano con un rilancio senza fine ma è un rilancio un po' come il pokerista che però eh non riesce a nascondere le carte all'avversario perché ormai è evidente che dal punto di vista economico le sanzioni sono state un boomerang gigantesco da un punto di vista militare la Russia si era forzata come non mai la Russia stava mettendo una una riforma delle forze armate l'ha annunciata Shoigu mesi fa sta aumentando in maniera permanente il numero degli effettivi e ricordiamo che per quella quella russa Ucraina il conflitto di eh la guerra che si combatte in Ucraina per le entrambe le forze armate sia per quelle ucraine che per quelle russe è stata una palestra eh diciamo senza pari hanno avuto modo di affinare tecniche capacità eh sia questi sia soldati che gli ufficiali come nessun altro al mondo questa è la prima guerra ad altissima intensità che si combatte dopo la seconda guerra mondiale sul territorio europeo quindi tutti questi paesi europei che gonfiano il petto in realtà hanno ben poco da fare io ricordo che quando i francesi britannici andarono a bombardare la Libia dopo una settimana avevano finito le munizioni loro davvero avevano finito le munizioni a differenza dei russi che lo si disse ma non era esattamente così ci sono una serie di studi adesso che stanno stanno emergendo valutazioni da parte di settori non esattamente russofili come il ministro il ministero degli esteri della difesa estoni che parlano di capacità produttive russe che sono in costante aumento ma questo era prevedibile anche qui eh la guerra si si compone di varie fasi no c'è stata la fase in cui c'era la trattativa armata ne abbiamo parlato più volte che la Russia inizialmente ha invaso l'Ucraina con una una forza non dico risibile ma del tutto insufficiente a conseguire l'obiettivo che gli attribuivano cioè occupare l'intera Ucraina e addirittura arrivare fino a Lisbona ancora continuano con questa storia peraltro ma e quindi era una trattativa armata poi quando ha visto che questa storia non finiva non finiva ha fatto la ha ordinato la mobilitazione e la mobilitazione per dare i suoi frutti richiede tempo e abbiamo visto che sei soldati ufficiali si sono esercitate sul campo di battaglia Ucraina lo stesso se lo discorso si è si applica per il settore per esempio industriale per la logistica per l'organizzazione dello sforzo bellico in generale e quindi abbiamo visto la Russia che se nel 2022 produceva due milioni di proietti di artiglieria nel 2023 è arrivata a 3,5 milioni e si stima che nell'anno in corso arriverà a 4,5 milioni se va bene se i calcoli della NATO dovessero cioè se gli sforzi della NATO arriveranno a arriveranno veramente a consacrazione la NATO sarà quindi gli Stati Uniti e l'Unione Europea combinate riusciranno a produrre al massimo 1,3 milioni di proietti di artiglieria è una diciamo un divario è un E326 e un quarto sì se poi si conta che se nel computo non viene tenuta in considerazione la fornitura di proietti di artiglieria colossale che la Corea del Nord ha consegnato alla Russia quindi la Russia ha la possibilità di sparare non so quante 12 13 14 mila proietti di artiglieria al giorno senza intaccare le riserve per un tempo molto lungo viceversa l'Ucraina non ha questa capacità poi prima facevo riferimento alla base alla base demografica e l'Ucraina fa sta veramente raschiando il fondo del barriere abbassato i criteri di arruolamento ha ammesso che c'ha 3,5 4 milioni di persone che di cui non hanno alcuna notizia che sarebbero teoricamente reclutabili perché hanno le caratteristiche eccetera ma non riescono a trovare non sanno dove siano quindi significa che la situazione non va abbastanza bene nel documento a cui facevo riferimento prima c'è una serie di valutazioni si quantifica nella capacità della Russia nel migliore degli scenari per la Russia ovviamente la capacità di formare e di inviare sul terreno 130 mila soldati ogni 6 mesi è una cifra molto alta secondo me troppo alta però comunque dalla misura del fatto che c'è una capacità anche di ruotare le forze al fronte mentre invece gli ucraini sono chiamati sono obbligati a tenere le stesse forze per lunghissimi periodi di tempo esposti a quel genere di guerra che è una guerra all'altissima intensità di attrito che quindi logora anche da un punto di vista psicologico e oltre che fisico le forze quindi il tempo non gioca a favore degli ucraini assolutamente man mano che si va avanti la capacità della Russia di generare potenza si riverà sempre maggiore rispetto a quella degli ucraini e degli occidentali nel loro complesso quindi o gli occidentali ci sarà pure qualcuno che se ne è reso conto di questa situazione di disparità evidentemente o non vogliono prenderne atto questi settori sono minoritari in seno agli apparati ecco appunto appunto e stefano allora una volta che la l'ucraina perde insomma è ufficiale che perda cosa cosa fa la nato interviene la discussione la discussione è nei nei termini in cui non si parla più neanche della nato ma di singoli paesi europei ed è per questa ragione che sono state firmate tutta una serie di accordi bilaterali tra i singoli paesi e l'ucraina similmente a quanto accaduto ad esempio prima della seconda guerra mondiale in cui Francia e Gran Bretagna avevano stipulato con la Polonia degli accordi simili a questo in caso di aggressione ecco noi abbiamo ad esempio un un fattore di rischio quindi molto elevato e che allontana le possibilità di un cessate il fuoco di fatto perché le condizioni di attuazione di questi accordi sarebbero nel caso di una seconda invasione di una nuova invasione dell'ucraina da parte russa e sulla discussione del quale intendere come nuova invasione si aprirebbe tutta una una discussione relativamente al fatto che se si arriva un cessate il fuoco e poi questo viene interrotto la responsabilità data alla Russia si potrebbe intendere questo come una nuova invasione il problema fondamentale credo che sia ancora diverso e cioè che per la Russia in realtà l'intervento diretto dei paesi europei nel conflitto non rappresenta affatto un rischio ma un vantaggio e cioè il da questo punto di vista finora il più grosso vantaggio che l'Ucraina ha avuto in tutto questo conflitto è stato il fatto che la Russia non ha mai potuto prendere di mira le fabbriche di munizioni i depositi di munizione le zone di riparazione dove ci sono i tecnici i luoghi comandi dove vengono stabilite le operazioni gli aerei che raccolgono le informazioni sul terreno perché perché queste appartenevano a forze dei paesi della Nato principalmente stiamo parlando di di Francia Gran Bretagna che usano droni RC 135 della Polonia di altri paesi ancora queste basi sono in Polonia sono in Francia sono in Romania sono in Germania se questi paesi singolarmente entrassero mandassero truppe nel conflitto non appena uno dei loro soldati dovesse entrare nel territorio ucraino lo status di queste truppe lo status di quel paese diventerebbe belligerante autorizzando dal punto di vista del diritto internazionale la Russia a poter colpire direttamente il territorio dove vengono fabbricate le munizioni che vengono mandate all'Ucraina dove si riparano i carri armati che l'Ucraina non è in grado di riparare dove vengono fabbricati i mezzi o i proiettili dei cannoni che l'Ucraina poi può sparare ecco tutto e verrebbero abbattuti anche gli aerei che raccolgono le informazioni per l'Ucraina che fino adesso non sono stati abbattuti quindi da questo punto di vista verrebbe interdetto il cielo su questi territori anche a quegli aerei di Stati Uniti o di altri paesi appartenenti alla Nato che non entrerebbero nel gioco di queste operazioni e sto parlando della Turchia della Slovacchia di altri e di altri paesi che non hanno firmato nessun tipo di accordo con l'Ucraina e che quindi non permetterebbero di essere coinvolte in quest'operazione oltretutto anche l'articolo 5 della Nato non verrebbe applicato o comunque si potrebbe tranquillamente non applicare a causa del fatto che sono questi paesi che si recano nella zona di combattimento alterando il loro status e non invece viceversa non sono stati attaccati ecco anche perché i paesi che parlano di mandare le truppe ne parlano in termini di truppe non combattenti e cioè che si autodefiniscono come tali mentre invece per quanto riguarda un conflitto internazionale lo status delle truppe che entrano in un territorio deve essere stabilito di concordia tra le parti in conflitto e cioè entrambe le parti devono riconoscere queste truppe come non combattenti altrimenti sono combattenti a tutti gli effetti quindi da questo punto di vista macron sta parlando di interventi molti paesi vanno dietro a lui guardate che non c'è solamente che qualcuno abbia detto di no ce ne sono altri che hanno detto sì ad esempio il canada la repubblica cieca le repubbliche baltiche la polonia nicchia di conseguenza esiste esiste sul campo anche la gran bretagna oltretutto esiste sul campo una reale possibilità che questi paesi vengano chiamati a inviare le truppe dai loro governanti io ripeto da questo punto di vista la possibilità della russia di colpire a quel punto nel territorio di questi stati le fabbriche i magazzini che riforniscono l'ucraina è più un vantaggio che uno svantaggio perché già oggi affrontano tutto l'apparato industriale di questi paesi e lo fanno bene ma senza la possibilità di distruggerlo un domani affronterebbero lo stesso numero di soldati di fatto perché le truppe numericamente sono insignificanti quelle di questi paesi parlo di numericamente perché la francia non potrebbe mandare in nessun caso nella migliore delle ipotesi più di 30 mila soldati perché 30 non più di 30 mila e perché non ne ha altri operativi chiarissimo chiarissimo molto semplicemente quindi anche le attività di reclutamento di addestramento che diceva prima giacomo in in russia non fanno altro che aumentare il divario in pratica direi tra tra la situazione della russia e la situazione degli altri paesi infatti a livello a livello di richiamo di truppe no teniamo presente che sono vent'anni ormai che la leva ad esempio in italia in molti altri paesi europei è sospesa di fatto quindi c'è tutta un'intera generazione di potenziali riservisti tra virgolette o richiamabili che in realtà o arruolabili non ha mai visto neanche l'ombra di un fucile se non magari che andato perché andato a giocare a softer dico ecco e quindi una risibile minoranza per il resto partire da zero ad addestrare queste persone significa significa perdere almeno un altro anno e se ti metti in un conflitto pensando di avere un anno di tempo poi per addestrare le truppe quando non hai che poche decine di migliaia di 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 soldati operativi sul campo beh diciamo che il tempo non te lo concedono proprio certo e senti già come tra tutto in tutto questo come abbiamo già detto anche in altre puntate magari ne parliamo ugualmente anche oggi c'è il convitato di pietra che sono le elezioni eh a novembre e negli stati uniti le presidenziali ma questa settimana eh si vota in russia e quindi già sette ecco che peso può avere perché diciamo eh va bene e la putin ovviamente vince adesso si tratta solo di capire con che percentuale no ehm ecco però eh diciamo che di per sé è a fine mandato adesso in fine settimana gli verrà rinnovato un mandato per quanti quattro o cinque anni quindi ehm quindi eh l'occidente dovrà tener conto della percentuale che sicuramente sarà altissima no e quindi e quindi sarà la diciamo la manifestazione plastica del consenso interno di cui gode e che non è non è minimamente paragonabile al consenso che godono i i governanti e i vari cancellieri in giro per l'Europa beh chiaro eh cioè con sicuramente sarà una non dico sì un plebiscito probabilmente nel senso che eh io ho sempre detto che eh Putin eh non vince non vince 54 55 per cento voglio dire cioè il fatto è sì 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 dietro ecco voglio dire ecco ci sono alcune fasce della popolazione specialmente quelle che hanno 50 60 anni che ricordano cos'erano gli anni 90 e quindi eh quelle persone riconoscono appunto il merito di aver risalvato loro sostanzialmente la vita perché la Russia era lo sfacelo rischiava concretamente di era sulla via buona per diventare un narcostato uno stato mafioso sostanzialmente eh e davano giorni di lavoro no e di stipendi all'inizio degli anni 90 no? Esatto. E quindi insomma sanno cosa cosa grazie a quella leadership sono riusciti a scampare e comunque gli tributano eh gratitudine per quello. Dei fasce più giovani forse hanno un po' meno non hanno una memoria storica di quel periodo e quindi magari sono più sensibili ad un altro genere di diciamo di messaggi che era un po' il ruolo di Navarli cercando di intercettare le fasce più giovani della popolazione con messaggi dal contenuto altamente individualistico insomma mettiamola così. Però eh si è visto che eh con questa questa guerra ha ritemprato indubbiamente la società russa è stata un conflitto dalle molte secondo me dalle molte sfaccettature che ha eh per la Russia ha significato tutta una serie di diciamo un punto di svolta dai molteplici punti di vista come abbiamo già detto diverse volte un conflitto utile a spostare il baricentro economico commerciale da il commercio estero sostanzialmente da occidente a oriente per spostare anche la propensione cioè diciamo la direttrice culturale perché quel commercio esporta con sé tutta una serie di diciamo di di proprio di di legami di di portati eh che investono tutto una un vasto ambito di di settori tra cui la cultura per per c'era un articolo di Karaganov che un politologo russo molto influente parlava del fatto che si registrava un numero molto crescente di studenti eh che studiavano cinese in Russia guarda caso e quindi c'è anche un tentativo di ribilanciare diciamo la la proiezione russa da da occidente a oriente c'è un tentativo di riformare di riconfigurare la struttura produttiva quindi meno dipendente dal dal commercio di petrolio energia sostanzialmente materie prime e più a rice autocentrato capace di soddisfare attraverso la produzione autonoma le le necessità fondamentali quindi potenziare l'apparato industriale e la guerra da questo punto di vista è un volano formidabile come come sappiamo e c'è un tentativo infine secondo me che io definirei imperiale stanno ricostruendo l'impero ma non le le bagianate che sparano vogliavo ricostruire l'unione sovietica esatto contrario cioè cerca di ricostituire una una un collante unico per tutta per 140 45 140 145 milioni di abitanti che ha la Russia che sono persone che parlano alcuni parlano russo sono di fede ortodossa altri sono non sono nemmeno slavi perché i cecenni non sono di origine slava per esempio e sono in prevalenza musulmani la Russia circa 20 milioni di musulmani nel proprio interno quindi cercare di creare un un senso comune che un'identità condivisa per tutta questa vasta gamma di popolazioni che poi per esempio porta a quel tipo di di esiti cioè la Russia riesce a inviare e c'era una riflessione di un analista militare che si firma con uno pseudonico big big serge che ha scritto proprio questo cioè la Russia riesce a è sempre uscita nella storia a mobilitare la sua popolazione per la guerra antepone la vittoria la sua capacità di resistere a qualsiasi tipo di diciamo di di sofferenza pur di riuscire a spuntarla e comunque rimanere sulle sue gambe e c'è sempre riuscita fino ad oggi ed è sulla buona strada per riuscirci ancora una volta quindi credo che il popolazione russa questo progetto di Putin l'abbia capito in buona parte e gli attribuirà a indubbiamente in misura assai soverchiante il proprio consenso per permettergli di portarlo avanti fino a che non diventi difficilmente reversibile sì e la prossima l'appuntamento di lunedì appunto prossimo avremo occasione appunto di commentare di commentare l'esito delle votazioni dal 15 al 17 in in Russia e senti Stefano in due minuti perché poi per tutti gli approfondimenti anche di tipo tecnico il tuo preziosissimo canale no youtube Stefano Orsi facciamo il punto della situazione in un paio di minuti se ce la fai di perché ci sono delle operazioni sul fronte bellico no che testimoniano quello che di fatto mi sembra confermano che non ce n'era bisogno quello che poi ha messo in in verbo il papa insomma no la guerra è persa sì di fatto di fatto in questa settimana l'ucraina ha tentato di stoppare le operazioni russe sul fronte di adverca fissando il fronte sulla su una linea di villaggi che sono orlosca toninka e altri però al momento sembra che la sua forza di contrattacco si stia esaurendo e sta riprendendo la piena iniziativa la russia e quindi sta ricominciando a la sua marcia di demolizione delle forze americane che tra l'altro hanno perso ben quattro abrams sul terreno tra l'altro uno in uno scontro con un t 72 sovietico vabbè si ha riaggiornato è allo standard b 3m dai russi però sempre un t 72 ecco e poi c'è c'è stato un episodio molto importante in questi giorni proprio in vista delle elezioni russe della prossima settimana gli ucraini hanno tentato a cavallo tra le regioni di sumi e kharkov di invadere il territorio stesso della russia ecco quello che riconoscono anche loro come tale e il tutto si è risolto in un massacro delle forze ucraine che hanno perso cinque carri armati quattro semoventi di artiglieria preziosissimi perché non sostituibili come i cesar francesi hanno perso parecchi blindati e un numero imprecisato di truppe ecco non sono riusciti neanche ad avvicinarsi alla frontiera con questo gruppo di forze tutti distrutti da droni e da fuoco d'artiglieria russa e poi un altro fronte importante che è quello di artiomosc dove le operazioni russe di avanzata sono riprese attorno attorno a ivanovo e si stanno avvicinando all'importante centro di chasoviar che è una cittadina vicina ad artiomosc da cui poi si accede a kostantinovka torez che è di fatto un'altra linea di difesa che verrebbe messa sotto attacco allora giacomo veniamo alla situazione del conflitto israelo palestinese la situazione è critica perché gli stati uniti hanno rimosso le loro fronte aerei dalla mediterraneo direi che partiamo da questo dato per iniziare la nostra analisi sì ci sono sempre gli stati uniti sono in un equilibrismo che non ha non ha pari perché da un lato rimuovono le portaerei una cosa che indebolisce la deterrenza in una fase in cui ezzbollà è parecchio attivo sul fronte settentrionale di israele insomma abbiamo visto che continua a a bersagliare quelle regioni costringendo Tel Aviv a mantenere evacuata una vasta fascia di fatto ezzbollà ha creato una zona cuscinetto dentro israele e questo è quello che sta che sta accadendo e costringe israele a tenere o evacuate ogni rifugio una svariate decine di migliaia di abitanti in una fase in cui l'economia del paese arranca vistosamente quindi per un verso potrebbe essere un segnale questo interpretato come un segnale diciamo chiaro della casa bianca nei confronti di israele d'altro canto è emerso invece che l'ha sottolineato il washington post e anche una emittente israeliana channel 12 che in realtà le forniture militari statunitensi continuano a più non posso e addirittura biden se ne avrebbe chiuso c'è autorizzato senza renderlo pubblico c'è una centinaia di contratti per la fornitura di munizionamento quindi proiettivi artiglieria missili teleguidati eccetera quindi diciamo il flusso dei finanziamenti è più corposo che mai dei finanziamenti scusate delle del flusso di armi e munizionamento più corposo che mai mentre invece sul versante sul palcoscenico le dichiarazioni sono sempre critiche o comunque neggianti alla moderazione nei confronti di israele ma vediamo che ancora una volta in sede di consigli di sicurezza delle nazioni unite gli stati uniti hanno tenuto fede la loro difesa altranza di israele quindi è più è poco più che fuffa è però la situazione obiettivamente complessa per gli stati uniti perché perché per un verso ci hanno un elettore si avvicinano le elezioni e ci hanno alcuni stati come per esempio in michigan che hanno stato molto sensibile a parte di quella fascia la cosetta rust belt che è stata presentissimamente colpita dal processo di industrializzazione degli stati uniti che già per esempio molti molti musulmani al proprio interno molti cittadini di origine araba ma va anche detto che ormai il diciamo il sostegno alla causa palestinese trascende anche un po la comunità araba degli degli stati uniti e quindi continuare con questa con questa tendenza dell'appoggio totale a israele non fa buon gioco all'amministrazione biden e che quindi cerca insomma di fare buon viso cattivo gioco anche quella pagliacciata del l'allestimento di un porto per dare gli aiuti militari per scusate per dare gli aiuti umanitari alla popolazione di gaza che è una cosa che fa più danno che altro perché basterebbe costringere israele semplicemente dietro la minaccia della cessazione delle forniture militari ad aprire i varchi di terra che sono molto più più agevoli da utilizzare per rifornire la popolazione quindi c'è questa diciamo questa schizofrenia da parte degli stati uniti mentre per israeli la situazione sembra tutt'altro che che favorevole ci sono anche vari ufficiali delle forze armate israeliane che hanno confidato per esempio a arez ma anche al times of israel che gli obiettivi che si erano che erano stati annunciati non sono addirittura secondo alcuni non sono proprio conseguibili questo c'era da aspettarsela perché eradicare amass la vedo dura obiettivamente tanto per dirne una ma soprattutto hanno ancora una volta posticipato l'attacco al libano si parlava no c'erano una serie di ministri che parlavano proprio del fatto che era ora di regolare definitivamente i conti con esbollà ma questo non sta accadendo c'è stata una votazione del gabinetto di guerra tra ieri e l'altro ieri e dalla quale è emerso che per il momento non se ne fa nulla perché il rischio di sovraestendere militarmente israeli in una fase in cui le cose nella striscia di gaza non stanno andando troppo bene e in cui l'immagine la reputazione internazionale del paese le relazioni con l'estero sono forse irrimediabilmente quantomeno in un'ottica di medio periodo danneggiate da ciò che israeli sta facendo quindi insomma mi pare che la situazione sia tutt'altro che rosea e netanyahu che come sappiamo come abbiamo più volte detto è costretto a rimanere in sella per potersi salvare dei procedimenti giudiziari che lo che lui seguono e non ha altra scelta che cercare di tenere a bada le ali più oltransiste in una continua e sfibrante mediazione tra quelle coloro che premono per esempio per una linea negoziale che porti alla liberazione degli ostaggi che l'unica peraltro se si vuole liberare gli ostaggi bisogna trattare non c'è altra via chi dice che se le operazioni militari di bombardamento siano funzionali a liberazione degli ostaggi nella migliore dell'ipotesi non sa cosa sta dicendo perché gli uccidi gli ostaggi così chiaramente ma quindi credo che netanyahu cercherà di rimanere diciamo in sella più a lungo possibile ma non è detta che ci riesca in una fase come questa credo che israeli rischi veramente molto senti non è detto che ci riesca a rimanere in sella netanyahu e benny gans la scorsa settimana è andato è andato a washington e mi sembra ricorreggimi se sbaglio il ministro degli interni no 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 non è membro del governo gans dell'opposizione membro del gabinetto di guerra è un ex un ex capo di stato maggiore quindi ha un forte seguito all'interno delle forze armate che è accreditato un po da tutti come il potenziale principale diciamo avversario di netanyahu come come cosa è andato a fare washington è andato a fare washington perché è stato convocato hanno invitato lui gli stati uniti non hanno invitato netanyahu né qualcun membro del suo governo e quindi quello poteva essere un segnale che sì il sostegno a israele non è in discussione può essere invece in discussione il sostegno a netanyahu questo sì perché netanyahu con la sua linea con il suo essersi messo completamente nelle mani delle forze più oltraziste del suo governo emblemizzate dai due ministri quello delle finanze smotric quello della sicurezza nazionale bengvir rischia tantissimo voglio riapro una piccola parentesi il ministro per la per la sicurezza nazionale bengvir ha il controllo diciamo delle forze di polizia in una fase in cui adesso è iniziato il ramadam e quindi una fase particolarmente calda e bengvir era stato qui tra qui tra coloro che negli ultimi anni ha fatto maggiormente leva sulla necessità per la componente ebraica di assumere il controllo diretto del monte del tempio che sarebbe la spianata delle moschee se in una fase del genere si arrivasse a qualche genere di provocazione di quel tipo tipo mandare le forze di polizia sul monte del tempio per impedire ai musulmani di pregare di recarsi in preghiera presso la moschea di al-Aqsa probabilmente prenderebbe fuoco all'intero medio oriente quindi anche da parte degli Stati Uniti c'è un tentativo di dare uno stop a Netanyahu e di quantomeno di cercare di mantenere le tensioni entro il livello per così dire accettabile quindi credo che la convocazione di Gantz vada letta in quest'ottica indebolire politicamente Netanyahu metterlo alla berlina agli occhi del pubblico in generale ma non è che questo significa disapprovazione nei confronti delle politiche israeliane semplicemente cambia l'interlocutore che Gantz è stato identificato come maggiormente affidabile in questa fase sì perché Stefano se mettono le condizioni Netanyahu di dover fare un passo indietro questo sarebbe anche lo sconfessare ciò che di fatto l'Occidente e gli Stati Uniti magari in questo caso non dico che hanno appoggiato ma comunque non hanno contrastato ma vedi infatti hai detto bene a parole ad esempio nel discorso dello Stato dell'Unione Biden ha sembrato prendere le distanze dalle politiche israeliane ma se guardiamo ai fatti sta facendo tutt'altro e cioè se da un lato dice che devono fermare le operazioni militari e dall'altro invia continuamente armi e poi ha sempre fatto votare in sede del Consiglio di Sicurezza dell'ONU contro il cessato del fuoco richiesto dalle Nazioni Unite e pertanto ha aiutato e sostenuto Israele nel genocidio in atto poi per quanto riguarda Hezbollah finora Israele probabilmente sconsigliato dai capi delle forze armate non ha invaso il sud del Libano nonostante le ripetute e continue minacce di farlo Hezbollah non ha fatto un passo solo indietro anzi ha continuato a martellare le basi militari attenzione non ha mai colpito la popolazione civile ma solo le basi militari che sono poste da Israele lungo la fascia di confine a cui ha fatto riferimento ad esempio Giacomo è stato Israele a ordinare ad esempio un preventivo allontanamento della popolazione da questa fascia senza che però ci fosse in realtà un attacco di Hezbollah contro le comunità mentre invece possiamo tranquillamente dire che l'aviazione israeliana ha bombardato più volte i villaggi nella fascia sud del Libano da cui vuole a tutti i costi imporre l'allontanamento delle forze di difesa del Libano e cioè l'esercito di Hezbollah questo da questo punto di vista ha segnato una certa perplessità tra le fasce più oltransiste del regime israeliano tra le quali alcuni hanno addirittura detto che di fatto Hezbollah avrebbe vinto lo scontro contro Israele forse un po' per provocare il governo e spingerlo a questo intervento oltretutto perché le fasce più oltransiste non nascondono la loro velleità di estendere le operazioni alla Cisgiordania da un lato e alla zona sud del Libano dall'altro ecco nel progetto della grande Israele purtroppo anche questo va tenuto presente Senti Giacomo, dobbiamo evidenziare, merita un'analisi, un commento anche le affermazioni, la posizione dell'Italia si fa pericolosa anche in questo ambito perché il portavoce degli UTI dopo l'abbattimento di un loro drone da parte del caccia torpediniere italiano Caglio Duilio che è stato inviato in zona ha dichiarato il portavoce degli UTI se l'Italia ci intralcia l'attaccheremo quindi la posizione, ci stiamo mettendo in una posizione molto rischiosa insomma, pericolosa Beh certo, perché quando uno non ha sovranità e agisce sempre a rimorchio di qualcun altro ecco che cosa accade gli UTI hanno specificato decine di volte che avrebbero preso di nire inizialmente soltanto le navi che si dirigevano in Israele o da Israele salpavano punto per il resto tutti gli altri si sarebbero potuti ritenere assolutamente al sicuro Poi di compagnie di navigazione israeliane Sì sì, beh certo sì sì, beh chiaro interessi israeliani, mettiamola così erano interessi israeliani dopodiché gli anglo-statunitensi hanno preso di mira il territorio dello Yemen senza uno straccio di risoluzione del Consiglio di Sicurezza peraltro e allora gli UTI hanno detto benissimo, se pensate che questo ci spaventi noi adesso prendiamo di mira qualsiasi tipo di nave che a nostro giudizio sia di alcuni alleati di Israele e così hanno fatto l'Italia che non era stata presa di mira adesso si è automaticamente posta sotto il mirino di questo gruppo ma non è tanto qualcuno come al solito c'è la solita mentalità postcoloniale che del colonialismo non uscirà mai ma gli UTI sono quattro straccioni cosa volete che facciano? Gli UTI in realtà hanno messo è un esercito, è una forza che è riuscita a resistere a una guerra terribile come quella che gli ha scatenato la cosiddetta coalizione internazionale a guida saudita per anni e anni l'ha spuntata e adesso si è messo niente poco di meno che a prendere di mira gli interessi israeliani con effetti anche abbastanza concreti perché il traffico verso il porto di Eilat è sostanzialmente azzerato per Israele non è una cosa di poco conto cioè voglierei richiamare l'attenzione su una cosa e con questo direi che comunque il livello di servilismo dell'Italia è evidente a me pare che ci sia un tentativo piuttosto un progetto concepito non tanto da un singolo attore come possono essere gli UTI o come può essere Isbollah c'è il cosiddetto asse della resistenza che ormai si è dotato di una capacità di esecutiva e anche di progettualità strategica piuttosto elevata che sta conducendo secondo me una guerra di logoramento nei confronti di Israele gli sta lavorando ai fianchi molto pesantemente perché mentre Hamas ha impegnato Israele nella striscia di Gaza Isbollah attacca da nord e come diceva Stefano tiene impegnato una parte importante delle forze israeliane comunque in quel settore Sì, scusa Giacomo più che altro si difende a nord perché dobbiamo ricordare che è stata Israele ad attaccare per prima Sì, sì, comunque ci sono stati degli scambi d'artiglieria non fa un passo indietro d'altro canto c'è l'Iran che comunque abbiamo visto che sicuramente ha degli interessi in tutta questa indubbiamente da sud ci sono gli UTI come dicevo prima e quindi c'è una vedremo cosa accadrà in Giordania perché quella è una pentola che ribolla una pentola che ribolla costantemente e lì ci sono 700.000 coloni israeliani che sono peraltro in genere nelle colonie ci sono i personaggi più estremisti della diciamo del panorama politico israeliano quindi in un mese come il Ramadan è piuttosto significativo che qualcosa che siano stati degli avvertimenti circa il fatto che questa questa zona potrebbe possa prendere fuoco eventualmente non dimentichiamo poi che all'interno della stessa società israeliana ci sono delle fratture ci sono per esempio gli ortodossi ci sono a parte gli arabo-israeliani che non possono sono esentati dal servizio militare e hanno dato per esempio nel 2021 hanno dato teatro hanno dato luogo ad una sorta di sollevazione di insurrezione nel cittamista il concomitante rispetto a una diciamo una delle tante operazioni che l'esercito conduceva la striscia di Gaza quindi una saldatura del fronte esterno con quello interno per Israele è una prospettiva grossa ci sono gli ultraortodossi che sono finora sono una parte importante 13-14% della popolazione ma sono anch'essi esentati dal servizio militare perché sono dediti sono sovvenzionati dallo Stato per dedicarsi allo studio dei testi sacri unicamente ma ci sono pressioni da parte del resto della popolazione perché invece servono militarmente il paese il 31 marzo scade il diciamo il provvedimento che li intiene fuori dall'arruolamento e ci sono già delle proteste all'interno di Israele perché con loro vogliono continuare a sottrarsi all'arruolamento quindi c'è uno scenario da tenere sotto osservazione perché ci sono una molteplicità di crepe che si stanno aprendo qua e là che rischiano veramente di condurre uno scenario particolarmente caotico particolarmente caotico Stefano Stefano Orsi sì di fatto di fatto la prosecuzione di questa politica da parte del regime israeliano sta di fatto portando Israele verso il suicidio noi stiamo seguendo una una china imboccata dal dal governo Netanyahu che sta alienando di fatto Israele economicamente da da gran parte del mondo come ha detto giustamente gli Uti stanno hanno fatto una serie di misure hanno preso una serie di misure che stanno danneggiando e molto l'economia israeliana perché di fatto per arrivare in Israele dall'est dell'Asia e i prodotti israeliani per andare in Asia devono necessariamente fare il giro dell'Africa e questo è impensabile perché li mette fuori gioco per i costi così come anche i prodotti che arrivano lì hanno un aumento esponenziale anche purtroppo quelli che devono venire in Italia perché oramai oramai vediamo bene che la presenza delle nostre navi là sta mettendo sotto il mirino anche le compagnie di navigazione italiane anche il traffico delle merci che è diretta ai nostri porti e sappiamo bene che se aggiri intorno all'Africa poi attracchi nel primo porto che è a disposizione in Europa e magari non vieni fino a Genova per capirci ecco è un problema di non poco conto i trionfalismi e i toni da diciamo celebrazione d'accatto omerici addirittura delle operazioni militari della Caio Duiglio per essere riuscita ad abbattere un drone probabilmente da osservazione e non d'attacco ci dicono molto della leggerezza con cui i media del mainstream stanno affrontando l'argomento e la serietà invece dell'esame che andrebbe affrontata ecco ho pochi dubbi che se ne esca bene anche noi da questa situazione un ulteriore elemento di pericolo e di complicazione ecco a proposito di servilismo dell'Italia riusciamo in quattro minuti in tutto volevo una vostra analisi sulla sulla visita della sovranista considerata sovranista sia dai mainstream di opposizione che a suo favore da una parte sovranista purtroppo sovranista e l'altra per fortuna sovranista comunque la considerano tutti sovranista appunto di Giorgia Meloni a Washington scusa non ho capito mi sembrava di aver sentito per errore che hai chiamato sovranista la Meloni ho detto che il mainstream di destra e di sinistra scusa avevo capito male no 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 l'avevi sentito tu Giacomo vagamente diciamo vagamente alla nostra intervista Stefano comincia a fare gli scherzi allora ecco no no non l'ho detto io che è sovranista è il mainstream che a sinistra la considerano purtroppo sovranista a destra per fortuna sovranista purtroppo per fortuna secondo me manca il problema è il se è sovranista ecco e qui lascio la considerazione a ognuno degli ascoltatori ecco in ogni caso Fox News che è uno dei principali network americani ha attaccato proprio Giorgia Meloni in occasione della visita Giacomo di questa visita con questa foto che rimarrà io credo negli annali della base di Biden rimarrà negli annali come un momento eventualmente lo lascio definire a voi ecco Fox News ha detto che Meloni è la cocca di Biden ai volta faccia al proprio elettorato se lo dicono in America una cosa del genere che dovrebbero essere contenti di una figura come Meloni credo nella loro logica sì ma il punto è proprio quello il fatto è che c'è gente che ci ha veramente creduto io ricordo Steve Bannon veniva un po' l'ideologo di Trump veniva in Italia riteneva veramente che gente come Salvini e gente come come la Meloni fossero reclutabili nella sua per così dire battaglia in realtà che è una battaglia che per quanto mi riguarda francamente l'avrei messa molto volentieri in margini onestamente però al di là di questo questi sono personaggi che non hanno una chiara identità politica questi personaggi sono abbiamo visto come appena è capitata l'opportunità addirittura la Lega si era fatto parte del governo diciamo di coalizione Draghi è una cosa che per una forza che si definisce sovranista è qualcosa di inconcepibile la Milonia la forza d'Italia si è tenuta all'opposizione ma un'opposizione di cartone perché in realtà ha appoggiato praticamente tutti qualsiasi provvedimento però un popolo distratto un'opinione pubblica distratta come la nostra ha creduto veramente che quella fosse opposizione infatti appena si è andati a votare le prime elezioni nel post Draghi ha avuto un ottimo risultato perché era l'unica che si è opposta e considerazioni sbagliate analoghe insomma e adesso vediamo si è trovata l'interlocutore il momento democratico negli Stati Uniti e la Meloni ci si è buttata pesce non una ma due o tre volte c'è stato anche con diciamo una serie di inadempienza al protocollo da far spavento quella non è una questione di lana caprina un leader di un paese che si si prostra letteralmente in quella maniera e sbacciucchia bracci è qualcosa di ignobile è qualcosa di ignobile che porta discredito al paese che rappresenta e quindi evidentemente per cui questo è diciamo un dato di fatto che la Fox News che diciamo è il megafono un po' del partito repubblicano e più specificamente della compagine trampiana si scopre un po' l'acqua calda oggi e lascia un po' perplessi perché non c'era da aspettarsi assolutamente niente di diverso Stefano lascio a te se vuoi commentare perché mi hai mi hai attribuito una definizione che io non ho dato da parte mia no no mi era sembrato di capire che che dicessi che era sovranista e allora mi premeva sottolineare in maniera scherzosa che non lo è affatto ecco se c'è qualcuno che ha dimostrato nel corso del suo governo di essere tutto l'opposto di ciò che ha finto di essere per captazio benevolenze dei propri elettori è proprio il governo Meloni ecco ancora adesso mi capita ogni tanto di sentire da alcuni suoi elettori che dicono eh ma non potrà mica accettare queste cose a lunghe io gli dico come accettare è lei che lo fa è lei che lo accette non solo che lo vuole ma è lei che ha professato di volerlo fare perché in campagna elettorale ricordiamoci disse che l'agenda Draghi era l'agenda del suo governo sarebbe stata l'agenda del suo governo quindi voglio dire se qualcuno un po' disattento ha creduto che fosse ancora la Giorgia Meloni che diceva le cose di cinque anni fa ebbe avuto un bagno di realtà non indifferente negli Stati Uniti siamo in piena campagna elettorale oramai abbiamo visto il congresso spaccato a metà con una parte che si alzava in piedi ad applaudire e lo speaker della Camera alle spalle di Biden Johnson faceva delle facce dicendo ma che cavolo sta dicendo questo proprio esplicite e poi l'altra parte del congresso che non solo non si è alzato in piedi ma nemmeno in molti casi ha applaudito siamo di fronte a una spaccatura netta che non dice nulla di buono soprattutto in vista di un potenziale possibile accordo su nuovi fondi all'Ucraina che non è stato ancora raggiunto oltretutto e che vede marginalmente implicata anche la nostra presidente del consiglio e che figura fa la Meloni la Meloni fa la figura barbina di una scolaretta che viene trattata come tale dal presidente Biden ricordiamo in passato l'accompagnata tenendola per mano come fosse una povera pecorella sperduta la cappuccetto rosso della situazione lui il lupo cattivo ma non lo so e adesso insomma continua in questo atteggiamento ripeto non è solo con Biden che la Meloni si è lasciata andare ad atteggiamenti poco consoni e rispettosi del ruolo che lei dovrebbe ricoprire che è quello di leader di un paese espressione del Parlamento guida di un governo che deve seguire le indicazioni del governo e rappresentare un intero paese ecco se l'immagine del paese che vuole dare è quello di una persona diciamo dalle poche pretese che fa del del sovranismo d'accatto e e fa del proprio servilismo una bandiera ecco ci sta riuscendo benissimo ci sta riuscendo benissimo nella tua disamina ho visto che non ti sei scaldato hai mantenuto un certo aplomb si vede perché pensavo che questo argomento qua ci sto facendo il callo oramai cioè le prime volte mi alteravo perché per me era inconcepibile che un presidente del consiglio dell'Italia si comportasse in questa maniera oramai lo fa ad ogni occasione e mi sto rassegnando che forse questo è il vero ruolo dell'Italia attuale volevo quasi chiudere con una battuta però questa frase tua me l'ha fatta quasi passare questa voglia perché è una amara realtà invece la dico lo stesso non ti sei infavorato un po' perché ci hai fatto il callo ma anche perché sulla sulla parola sovranista ti sei mi hai fatto la battuta e quindi lì ti sei un po' si è un po' sfogati mollato la funzione non la vedi comunque però insomma questo è stato siamo in chiusura io ringrazio moltissimo come sempre come ogni lunedì Stefano Orsi grazie Stefano grazie grazie Carlo un saluto a tutti e grazie per esservi iscritti in tanti al mio canale grazie alla pubblicità e al lavoro che ha sempre fatto anche Carlo e gli sarò sempre grato per questo grazie grazie anche al lavoro perché in realtà è tutto è tutto farina del tuo sacco tutto merito tuo caro Stefano e grazie grazie anche come ogni lunedì per le preziosi analisi per il prezioso contributo a Giacomo Gabellini grazie Giacomo grazie Carlo buonasera a tutti grazie iscrivetevi vi ricordo il canale il contesto di Giacomo Gabellini grazie grazie a tutti grazie a tutti